Il lavoro del rispettore in incognito comincia dall'ingresso in albergo. Il consierge ha parlato all'ospite guardandolo dritto negli occhi. Allon 5 Stelle è uno del fuori del comune che deve offrire un'esperienza unica grazie a un servizio impeccabile. E' una buona famiglia, non hai dei figli, un marito. Che è che si prende la propria di lei? Loro. E' una buona famiglia. Perché non ce ne andiamo io e te dopo l'estate in Brasile, eh? Alla fine dell'estate lascio il bambino. E ti dico che mi preoccupo per te del fatto che non sei più una ragazzina e che sei da sola, mi preoccupo. Real luxury is the pleasure of a real life lived to the full and full of imperfection. There's no real life in here. Fidatevi del vostro istinto. Questo viaggio è il vostro. Sta a voi scegliere come farlo. Have a safe journey. E' una buona famiglia.